L'ortica fa parte della famiglia orticacee e la specie più conosciuta è l'ortica dioidica, pianta perenne che può raggiungere i 150 cm di altezza. Poi c'è l'ortica urense, pianta annuale che può arrivare a 60 cm di altezza. L'ortica è una pianta molto nota per il suo potere orticante, in quanto sul fusto e sulle foglie sono presenti dei peli che quando vengono toccati rilasciano nella pelle un fluido che causa un forte prurito. Però non tutti sono a conoscenza delle numerose proprietà dell'ortica. Per esempio, le ardici contengono i fitosteroli, come la beta-tostirina, che sono in grado di impedire l'azione al distosterone, una delle cause di calvizie e di acne. Contengono anche polifenoli, legnani, lectani e dal potere antiossidante. Le foglie, invece, sono ricche di clorofilla, acido gallico, istamina, acetolosina, carotene, vitamina C e oligolementi. Grazie al suo potere diuretico, può essere usata contro le infezioni urinarie perché facilita l'eliminazione dei batteri dalla vescica. È utile per combattere l'ipertensione arteriosa e l'ingrossamento benigno della prostata. In caso di artrite, può essere abbinata ai medicinali, consentendo la diminuzione degli stessi, evitando così eventuali effetti collaterali. Infine, l'ortica ha una grande capacità di alcanizzare il sangue facilitando l'eliminazione dei resuidi acidi del metabolismo. Inoltre, l'ortica combatte l'anemia perché contiene molto ferro e clorofilla che stimolano la produzione di globuli rossi, molto utile in caso di convalescenza, di nutrizione e esaurimento, in quanto ricostituente e tonificante. Dopo una cura a base di ortica, si recuperano in fretta le forze, l'energia e la voglia di lavorare e anche l'aspetto esterno migliora. L'ortica ha proprietà vasocostrittive, perfette per chieni e ipoteso, e qualità cicatrizzanti efficaci nel trattamento di ulcere gastriche, emorroide e perdita di sangue dal naso. È molto utile per le donne che hanno mestruazioni abbondanti e inoltre consumare la tisana all'ortica in gravidanza favorisce la produzione di latte materno. L'ortica è un digestivo naturale, in quanto contiene piccole dodgi di creatina che stimola il pancreas e la cistifelea, aiutando così la digestione. Aiuta anche a restabilire la normale funzionalità intestinale grazie alla sua proprietà antiderloica. La presenza di flavonoidi conferiscono all'ortica proprietà astringenti e dermopurificanti, ottimi per contrastare il sebo in eccesso su cute viso, ezemi e acne. Le foglie dell'ortica sono un naturale rimedio all'ipoglicemia perché abbassano i livelli di zuccheri nel sangue. In conclusione, l'ortica è una delle piante più sottovalutate, ma come abbiamo visto in questo video invece ha molte proprietà. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!